Ciao amici! Allora, volevo mostrarvi cosa succede a fare lo stronzo in un autobus in Turchia. Il tizio in questione è stato randellato ad avere ed è stato eiettato dal pullman esattamente davanti alla centrale della polizia da una folla di donne un pochino incazzate, come potrete vedere dal seguente filmaggio. Tuck! Spintone! Sberla, pugno, sberla, incazzamento, sberla, strattonamento, spintone, spintone, sberla, sberla, pugno, strattonamento, strattonamento, prolungato, sberla, 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 spintone, pugno, calcio pugno 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 minchete sinistro pugno 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 spintone incazzamento sberla 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 sberra pugno 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 spintone pugno pugno sberla pugno 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 calcio spintone, sberla, calcio, calcio e iettamento dal pullman missione compiuta bravo